Signorina, niente in contrario, se faccio visitare al signor Conway l'università? Avrete un'ora libera dopo aver scritto i versi. Che? Dovete scrivere dei nuovi versi per quelle vecchie canzoni. Io? Sì, battute e frizzi appropriate degli studenti. Signorina, credete di riuscire a far lavorare l'uomo più figro del mondo? Certo, se lo dice lei... Sì, dalle 10.20 alle 11.10. Grazie a tutti.